arrestato in argentina l'ex brigate rosse bertulazzi meloni profondo apprezzamento è stato arrestato in argentina leonardo bertulazzi l'attitante delle brigate rosse che adesso sarà estradato in italia a seguito della revoca dello status di rifugiato che aveva ottenuto nel 2004 bertulazzi deve scontare 27 anni per sequestro in persona associazione sorvessiva e banda armata 1977 sequestro costa era finalizzato all'acquisizione di mezzi finanziari per sovvenzionare l'attività terroristica 50 milioni di lire vennero utilizzati per l'acquisto dell'appartamento di via montalcini a roma dove venne tenuto prigioniero aldo moro per il periodo del suo sequestro la polizia argentina ha eseguito la misura restrittiva nei confronti di bertulazzi alla presenza dell'intelligence italiana e dirigenti di operatori delle forze di polizia in servizio alla direzione centrale la notizia dell'arresto è stata commentata positivamente dalla premier giorgia miloni in una nota diffusa da palazzo chigi si legge che la presidente del consiglio esprime profondo apprezzamento agli autorità argentine per aver eseguito l'arresto di leonardo bertulazzi condannato in italia 27 anni di carcere per reati di terrorismo a seguito della revoca dello status di rifugiato da parte della commissione per i rifugiati in argentina l'arresto dell'attitante membro delle brigate rosse è stato reso possibile da un'intensa proficua collaborazione tra le autorità giudiziarie italiane argentine e interpola stato reso possibile da un'intensa proficua collaborazione tra le autorità giudiziarie italiane argentine e interpola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti